Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida, io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò come continuare il trionfo ascolta con calma. Prima di continuare con il video però vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale nel caso in cui vi sia stato d'aiuto e vi sia servito il video, così da potermi supportare. Per continuare con il trionfo e trovare un altro automa di Calus dovrete avviare l'attività recessione e dovrete aver selezionato riconciliazione. Una volta avviata l'attività vi basterà avanzare fino a quando non incontrerete il corvo. Qui quello che dovrete fare è semplicemente aspettare che finisca il suo dialogo, dopodiché dovrete attivare le leve e appena sarete usciti dalla stanza delle leve davanti a voi avrete tre psionici e dietro di loro l'automa di Calus. Una volta che avrete ascoltato tutto il discorso di Calus il trionfo ascolta con calma avrà una seconda spunta verde su riconciliazione. Unica cosa che ci tengo a precisare e che mi vorrei correggere da quello che ho detto nel precedente video è che sì, questo trionfo si potrà completare con il tempo, cioè ad ogni reset al martedì, uscendo la nuova modalità dove si troverà l'automa di Calus. Ma nello stesso tempo nel caso in cui non abbiate trovato il primo automa o uno di quelli che vi manca potrete recuperarlo subito facendo l'attività in cui si troverà l'automa di Calus. Detto questo spero di esservi stato d'aiuto e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Tu cerchi di fermare una prestazione cosmica al di là delle tue facoltà, una bellezza forgiata al di là della tua comprensione. Lotte, come facevo io, una larva ingrassata dalle bugie della realtà che si contorce in un'esistenza soffocante. Ma le pareti sedruse di quel pozzolo non sono una polpa, piccola larva. Sono i metali che aspettano di sbocciare. Presto emergerai per vedere il magnanimo arco dell'eternità di spiegarsi davanti a te la storia e sanno tu. Capirai quello che capisco io. La nostra fine è stabilita. Non resta che lo spettacolo del nostro conflitto. La lotta per abbattere i nostri mui. Perciò resisti se devi. La sfida è nella tua natura. Perfino contro i tuoi interessi non farà che accelerare la tua rivelazione. La sfida Covid-19 ... Grazie a tutti